Una vita continua a essere una delle sop più amate di Canale 5 Video e oggi vogliamo darvi qualche news in merito a quello che vedremo ad inizio 2018 in Italia e che promette di sorprendere tantissimo i 2 milioni e 600 mila telespettatori che, dal lunedì al venerdì, si sintonizzano sull'ammiraglia Mediaset per seguire le storie dei propri beniamini. Grandissimo spazio nel corso delle puntate della nuova annata sarà dato, sicuramente, alla cattivissima per eccellenza delle storie ambientate ad Acacias 38 e cioè la diabolica Cayetana Sotelo Ruiz. La donna si ritroverà ad avere a che fare con un momentaneo stato di follia che avrà dell'incredibile e sarà foriero di colpi di scena a non finire. Leggiamo insieme tutti i dettagli in questo proposito. Le anticipazioni di una vita ci informano che nel 2018 Cayetana perderà completamente la ragione quando scoprirà che Teresa è la vera Sotelo Ruiz. A questo punto, la donna riuscirà a fuggire dal convento dove è rinchiuse e, in preda alla follia, comincerà a credere che Germana e la figlia Carlota siano ancora vivi. Cayetana, oltretutto, si recherà sulla tomba di Carlota decidendo di disotterrare il corpo della consanguinea, credendo che possa essere ancora viva. Questa follia di Cayetana desterà qualche sospetto anche in Mauro Sanemeterio, il quale deciderà di chiedere una perizia psichiatrica e il rinvio della condanna a morte. Cosa succederà a questo punto? La storia non smetterà di riservare delle sorprese e ne vedremo delle belle. Ci saranno anche altre trame degne d'attenzione, video come quelle che ruoteranno attorno al clan degli Alvarez Hermoso, infatti, Felipe riprenderà la sua storia con Huertas ma questo avrà delle conseguenze dato che Celia vedrà un bacio tra il marito e la domestica e, successivamente, farà in modo di sorprenderli insieme. La donna sarà scioccata dalla notizia dell'ennesimo tradimento del consorte ma deciderà di assecondare le scappatelle del marito pur di non perderlo, del suo stato di confusione si accorgerà a Trini, la quale affronterà più volte la sua amica ma senza successo. Celia, inaspettatamente, non vorrà separarsi da Felipe ma avrà uno scontro molto duro con Huertas, al termine del quale avrà un malore. Intanto, la scelleratezza di Pablo, disposto a cavalcare ancora come Fantino, lo porterà a un passo dalla morte e a occuparsi di lui sarà la moglie Eleonore, decisa a trovargli una casa più comoda. Sopo una vita anticipazioni.